Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 In questa nottata di Halloween noi siamo al... I bar e caffè E tra pochissimo scopriremo quali saranno i concorrenti che ci sfideranno alle semifinali del concorso Canoro intitolato... Stop and Go Brava, Stop and Go e quindi venite un po' con noi A Stop and Go Grazie Dio Un po' con noi Viaggio interamente, mi riascita verso te Il sogno è veramente come solitare, questo mi ce l'ho detto Un'altra vita mi darai, io non conosco la mia compagna Tu sarai fino a quando lo vorrai, non vivremo come sai Solo di sincerità, di amore e di fiducia Tu sarai quel che sarai, fra le mie braccia dormirai Speramente non c'erassi Non sei felice, non sei mai E' arrivato il momento di scoprire come saranno organizzate le semifinali 5 serate, dal 4 novembre al 2 dicembre Jessica ha estratto in maniera totalmente casuale Quelli che saranno i tre sfidanti di ogni serata Si parte il 4 novembre con Anna, Biaggio e Stefano Per poi proseguire l'11 novembre con Natascia, Mari e Gaspare 18 novembre le voci di Maurizio, Antonella e Cleglia 25 novembre Sabrina, Vittorio e Daniele Si concluderà la fase di semifinali il 2 dicembre con Samantha, Alberto e Simone In ogni serata, come abbiamo appena detto, ci saranno tre concorrenti che si sfideranno Soltanto uno vincerà Ma attenzione perché tra tutti gli eliminati uno soltanto verrà risorteggiato Grazie a una nuova tipologia di giudizio, ovvero il punteggio Non ci saranno più le palette ma il punteggio Chi avrà il punteggio maggiore avrà la possibilità di rientrare in gioco Anche se non ha superato effettivamente le semifinali Quindi insomma, sicuramente saranno 5 serate agguerritissime E ci sarà da divertirsi all'Ibari Caffè Allora, dolcetto o scherzetto? Ma perché l'Ibari Caffè si chiama Ibari Caffè? Eh, questa è una bella domanda, non so rispondere Hai 5 secondi per rispondere 5, 4, 3 Eh, non lo so No, no Non lo so E quindi, guarda cosa ti perdi Il dolcetto Il dolcetto C'è lo scherzetto Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Evviva! E quindi il primo l'abbiamo segnato Boh, grazie Grazie, ciao Gran bella domanda 5 secondi per rispondere Ibari, come me l'hai mai spiegato 2 secondi Perché Perché giocano Ibari E chi sono? Ibari, quelli che barano il trotto È corretto Bravissimo E quindi puoi pescare un dolcetto Bravo Complimenti Bravo, bravo Non lo so 4 secondi 2 secondi 1 seconda Nooo, no, no Chiudi gli occhi No, lo so, lo so Te lo posso dire Dimmelo Perché è un quadro di Non so di chi E? E? Specifica E raffigura Chi? Vari che rubano carte Ladrano Sarebbe finito il tempo Però Però lei è buona No Però io lo do Stava È cattiva Però guarda Il dolcetto me lo dà Questa volta decido io Dolcetto vai Grazie Buon Halloween Grazie anche a te Non ho proprio idea 4 secondi 3 secondi Non lo so 1 seconda Non lo so Nooo 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 Scherzetto fatto Non lo so 4 secondi Eh, non lo so 2 secondi Eh, segna Nooo Nooo Non lo so 3 secondi C'è 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 Provato Però Però Non vuole E me lo sono chiesto anch'io tante volte 4 secondi C'è il quadro dietro Guarda E quindi E i bari Non nasconde la carta È un baro Giusto? Bravissimo E quindi Niente scherzetto Ma Dolcetto Grazie Complimenti Grazie I bari I caffè 3 secondi I bari caffè perché fanno buono il caffè I bari caffè perché fanno buono il caffè Dolcetto Scherzetto Scherzetto Oh Eh, non è la risposta corretta Chiudi Chiudi gli occhi Non devi aprirli, eh Non ti preoccupare Non ti preoccupare Scherzetto fatto Oh 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 Grazie Grazie 5 secondi Perché se non voglio fare la giochi C'è qualcuno che bara C'è la sala giochi qualcuno che bara I bari Atticamente non li trovo di bari Più o meno Più o meno Non è proprio così Le posso chiedere di togliersi gli occhiali Non li apra Mi raccomando Ok Non lo so Come non lo sa Eh, non lo so I caffè I caffè? Eh Eh Io sono una Che non beve caffè Non beve caffè E quindi non conosce il motivo per cui questo locale si chiama così Eh Non lo so Cosa le piace bere a lei? L'acqua Acqua naturale Acqua naturale Acqua I bari naturali Sì I bari naturali Diabetica quindi devo stare attento Quanto diabetica in effetti Sa che Non ha vinto il dolcetto? Eh? Non ha vinto il dolcetto No, e non le posso mangiare? Ah no E va bene Guida tu Che sei bella più di me Ed attento che sia amore Ma io Sono con te ogni giorno Perché di te ho bisogno Non voglio di più Acqua e sale Mi fai bene Con un corpo di cappie di pittiere Mi fai male Vuoi com'è Il sogno Che un cosiddetto Lo stagno Che un po' di vita Che un po' di bene Sono vivo Ma fa l'amore Con me E quando vuoi Che ne vince? Nesta! Nesta! E un cuore 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 Maffi a seguirà E un cuore Ma ça non le vuole E un cuore E un cuore C'è silenzio Fra noi Guardo Negli occhi suoi E capisco L'amicielità Grazie a tutti.